Nessun provvedimento ha riguardato la sua gestione e ovviamente l'attività che sta portando avanti da alcuni anni. E' l'avvocato Maria Rita Giommoni, legale della BTSRL, a confermare la completa estraneità dei fatti dell'attuale gestore dell'Anghiari Hotel in merito all'inchiesta della Procura di Latina che ha scoperchiato un giro di denaro sporco. Soldi provvedendo di un traffico internazionale di stupefacenti riciclati dall'Andrangheta che attraverso dei prestanome aveva acquisito società, auto di lusso e immobili tra cui appunto l'Anghiari Hotel che adesso è sequestrato. Non ci sono sigilli e la società è completamente strana a questa vicenda. In questo caso la società proprietaria della struttura con sede a Roma aveva stipulato un contratto di affitto con gli attuali gestori che adesso avranno come loro interlocutore lo Stato ma l'attività prosegue senza alcun problema. Ci hanno comunicato che appunto noi non abbiamo niente da temere ma essendo gestori per una questione anche di rispetto ci hanno comunicato questa cosa ma nient'altro. Dopodiché ci hanno detto voi continuate a fare il vostro lavoro perché tanto non avete nessun tipo di problema. Il suo contratto di affitto con chi era? Con chi è? Sempre con questa società alla quale ho elargito sempre i affitti fino al mese scorso. Non puoi immaginare che c'era questo collegamento? Nella maniera più assoluta perché io per l'indole e per natura posso dirlo mi faccio molto fatti nei.